Ma come ha detto la Ministra Boschi ci sono molte cose ancora suscettibili di cambiamento e se lo dice la Ministra che aveva predisposto il testo base che è stato ripeto cambiato praticamente dalla prima all'ultima riga vuol dire che il dibattito parlamentare sarà fondamentale. Io penso al criterio dell'elettività dei nuovi senatori, io penso ai compiti dei senatori, penso alla specializzazione del nuovo Senato, penso ai rapporti del nuovo Senato con la Camera ma penso anche al numero dei deputati perché se vediamo una riduzione drastica del numero dei senatori forse una qualche riflessione sul numero dei deputati possa essere fatta. Penso al tema dell'immunità parlamentare, penso anche all'elevazione del livello delle firme per i referendum abrogativi. Su tutti questi punti penso serva una riflessione attenta. Il tempo c'è, non ci corre dietro nessuno. Stiamo facendo, ripeto, la riforma del Parlamento.